Buongiorno, il CEFRIEL è un centro che è stato creato alcuni anni fa per promuovere e sostenere i processi di trasferimento tecnologico e di innovazione nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, ciò che viene spesso chiamato o denominato con il termine ICT. Il centro si occupa di tre tipi di attività, progetti di innovazione vera e propria per le imprese che occupano più di 100 professionisti e docenti e ricercatori del Politecnico e delle altre università consorziate con il centro, attività di ricerca vera e propria nell'ambito di progetti europei e una parte di attività di formazione diretta soprattutto a processi formativi e di crescita post laurea e post esperienza nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni italiane. La caratteristica principale del centro è la forte integrazione tra queste tre attività, ricerca, innovazione e formazione sono strettamente correlate, nell'attività di innovazione si applicano le conoscenze, le tecnologie, tutto ciò che viene acquisito attraverso i processi di ricerca, nell'attività di formazione si raccontano le esperienze, i casi di studio, i progetti concreti che vengono svolti all'interno del centro, quindi si tratta di un percorso virtuoso di collaborazione tra attività diverse che arricchiscono in particolare l'attività formativa che quindi ha un insieme di contenuti e di esperienze che si basano realmente su casi concreti sviluppati in impresa, nelle pubbliche amministrazioni in Italia e all'estero. Quali sono le aree principali di attività del centro dal punto di vista formativo? Sicuramente esistono tutta una serie di attività formative che si basano sullo studio, l'analisi delle tecnologie, dell'informatica, delle telecomunicazioni, dell'elettronica, dell'automatica, ma accanto a queste aree tecnologiche più tradizionali si sono sviluppate anche nuovi percorsi formativi che hanno diversi tipi di approcci e tagli. Da un lato si è sviluppata tutta la formazione che riguarda il project management, quindi la gestione di progetti di innovazione tecnologica ad alto contenuto innovativo e che richiedono quindi delle competenze, delle professionalità specifiche dal punto di vista della gestione del progetto. Una seconda area molto importante è tutta l'integrazione tra le competenze tecnologiche, quelle relative al design, all'innovazione in senso stretto, perché questo stretto connubio tra tecnologia, design, processi di innovazione è ormai diventato una delle leve strategiche per le imprese per aumentare la loro capacità di innovazione e di competitività. Un terzo filone di attività nel campo della formazione è quello che riguarda i programmi e gli eventi formativi per quadri e dirigenti, quello che si chiama formazione executive. In questo settore stiamo sviluppando non soltanto programmi che hanno come obiettivo quello di analizzare i principali cambiamenti, le principali evoluzioni nel settore delle tecnologie, dell'informatica, delle telecomunicazioni, ma anche di capire quello che è l'impatto che questi cambiamenti possono avere sul mercato, sul modo di essere delle imprese, sui requisiti, i vincoli e le sfide che le aziende devono affrontare per poter da un lato tener conto di questi cambiamenti e dall'altro per valorizzarli all'interno della propria missione, della propria attività di business. Si tratta quindi di un insieme di percorsi formativi articolati che hanno la radice nelle esperienze concrete che il CEFRE svolge nei propri progetti di innovazione e di ricerca e che mirano sempre a tradurre, applicare, raccordare le esperienze nel campo progettuale di innovazione con il trasferimento di competenze e di conoscenze verso i partecipanti ai nostri corsi. Trasferimento che spesso è bidirezionale, nel senso che nel momento in cui si avvia un colloquio, un dibattito, un confronto su specifiche tecnologie e sfide, c'è anche un arricchimento reciproco che nasce dall'interazione tra le persone partecipanti al corso, tra i partecipanti e il docente e quindi si tratta veramente di workshop all'interno dei quali c'è una crescita complessiva delle competenze e delle conoscenze da parte di tutti i partecipanti. E' quindi un po' un modello che pensiamo possa essere particolarmente innovativo perché coniuga la formazione tradizionale e convenzionale che è uno dei asset principali, una delle tradizioni più forti del Politecnico di Milano con una esperienza concreta all'interno di progetti di innovazione che quindi permettono di verificare e di concretizzare tutto quello che viene discusso in forma più teorica o di principio all'interno della formazione più convenzionale.